Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Crash Bandicoot Lera di Cortex, sempre con la mia ragazza Ciao a tutti Oggi abbiamo una grande novità, questa è la parte 8 Oltre a finire gli ultimi due livelli della penultima isola, l'isola ghiacciata, e sconviggere il boss Abbiamo messo nell'emulatore della PS2 la risoluzione full HD Quindi praticamente adesso avremo la grafica anche molto, ma molto, ma molto, forse 4 volte superiore al normale Vediamo se non mi da problemi, utilizzeremo questa con tutti gli altri giochi Perché veramente si vede che è una bellezza, non sembra più un gioco vecchio Ok, andiamo nel livello 19, sei pronta? Si Oh, se te lo reggi anche a te questa qualità, secondo me ti diverti Magari Lo sai che non ci ho provato a mettere questa funzione nel livello dell'altra volta dove si vedeva tutto male? Chissà questo problema lo risolveva Dopo ci dobbiamo provare, lo dobbiamo fare a quel livello Sì C'è il sottomarino Che palle, amò Lo so E va fluidissimo Ovviamente, se vedete delle linee è normale Perché comunque questo gioco non supporta Cazzo, escono pure i piselli da sotto adesso in questo livello I piselli? Non supporta questa risoluzione il gioco Cioè non è nato con questa risoluzione Quindi comunque se escono dei bug Ci sta Però Diciamo che Devo dire che non fa male agli occhi Cioè rispetto a prima è molto più bello da guardare Cioè prima era una cosa Odiosa Cioè Per una persona che magari è abituata a giocare solo a una qualità Rispetto a me Ok Tu come ti trovi in questo livello? Dimmi la tua opinione Le casse non le sto cagando proprio Io sto cercando di prenderle tutte Perché ci sono certe casse che sono sotto Che escono tipo dei tentacoli Non so se hai notato Sì E ho paura Hai paura? No perché mi fanno morire Poi non c'è manco un checkpoint Manco un checkpoint sono arrivato ancora Eh Mi sa che è molto lontano Nemmeno io non ci sono arrivato Ci sono i girini guarda Quante meduse però cazzo Devi sparare Se ci spari si fa Eh ma sono infinite però Ma vabbè ma come cazzo li ammazzo tutte Via Dammi un checkpoint Ci sono anche i pesci I crash pesce No ma mi ha ucciso Ma porca puttana di cristo santa la croce Ma dai ma mi ha dato un po' e non mette Gring gring Così anche se c'è una casa che non vedi giù Nooo ma ci ha potuto Ma esce una bomba all'improvviso e mi ammazza sempre Non la riesco a superare Amo ma incredibile oh Oh Mette l'anze a sto livello a me Ma c'è Nemo Di tutto di più c'è Ma tu dove sei arrivato? Io della parte dove poi Se ne va Se ne va stava vicendo Ma finisce sto schifo prima o poi Cosa? Ma finisce sto livello così no Eh, è abbastanza lungo Guarda, ma perché mettono i checkpoint lontanissimi? Io questo non capisco Infatti, punto, la navicella se ne va E cresci di male da solo con le pin Ok, sono arrivato là, a quel punto Eh, ma il checkpoint? Checkpoint? Scusa Eh, attenta la cat L'ho capito, ma il checkpoint? E' ancora più avanti, ancora non c'è No vabbè, ma non si ferma, fa la tratta la infinita, ma non si ferma No, non devi prendere, se tu premi... Di nulla, con la navicella, no, ma è troppo lungo, non mi possono fare sta roba Io non ce la faccio, non ce la faccio Non ce la facciamo Checkpoint di Mamta Vieni, 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 vieni Vieni, che ti faccio pezzi pezzi come le puerche, vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, volvi prendere? Eh, mi dispiace, non ci sei riuscito, come mai? No! Alla fine ho perso! Checkpoint, Peach! Vieni, vieni, vieni! Non troverai di niente, vieni! Ma vangula mamma! Mi sudano le mani, ti giuro, non ce la faccio più! Eh vabbè, così è facile però, può morire! Invece ho cinque vite, vediamo! Che sussurumore! No! Un cristallo? Dopo il cristallo dov'è? Dopo il cristallo? Oh rispondimi però! E' morto! Questa mattina! Siiii! Cazzo! Mamma mia! Tutte le vite mi ha fatto perdere! E che re! E che re! Voglio! Andiamo nell'altro? Ci sei! Proviamo sul livello venti! Come va più? Ho aumentato la grafica di brutto e va ancora più fluido il gioco! Come cosa bisogna invece di andare più pesando? Non so il gioco! Ma da me secondo me andrà pesando? Guardiamo! Devi provare! Ah! Come lag! Ah! Come lag! Raga! Vamos! E con il lag! L'1-2! Mangopupu! Cazzo! Cioè mi ti devo mandare una foto di come si vede! Cioè è uno spettacolo per gli occhi! Te lo sto spettando! 21min volte vani! Si! Sì! Niente! Ha potuto abbastanza però.. Voglio provare a prendere tutte le casse qua! Ad effettare! Preparare! Chè! C'è quello che lancia le pistole Quando mi sta su un cazzo Sono arrivato a quale ventole? Ho preso Vudga E' mo' le ventole come cazzo devo fare? Ah si devo aspettare che si girano giusto? Devo aspettare che si fermano e poi lascivo la testa Ho capito tutto frate Però sei andato a non le toccare che sono persi Ho capito tutto frate ti ho detto Checkpoint bitch Un altro acuacu C'è due maschere dai 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 E' mo' qua come cazzo devo fare? Io ero amicare Nooo che coglione Ho premuto X due volte Cade se premio X Ho quattro vite ce la faccio a fine livello Che? Sta laggando un po' Ah come lagga raga Oddio il bonus Madonna che stavo cadendo per salire sulla cosa del bonus Vieni 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 che ti faccio vedere io come si fa Vieni 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 Ma io vado prima a destra e poi vado sul bonus Cioè tu ti butti subito sul bonus Allora scommetti che avevi fatto qua è la cosa No praticamente Praticamente sono arrivata Al cosa del bonus E stavo cadendo Ma è no male che appena in tempo sono ristrata ancora Bonus Il bonus lo devo fare per forza tutto Perché devo recuperare un po' di vite Cioè ho 5 vite E devo arrivare al livello almeno con 6-7 vite Mi sento più sicuro Giusto? Sì ma non è difficile Giusto Christopher Robby Chi? Christopher Robby Già una vita l'ho presa Ho capito che non è difficile però 1 2 3 4 Eh ma qua? Ah è sulla nitro con i passi Giusto? Qua è brutta la cosa Oddio mia Tutte le casse avevo preso porca troia Ho paura di fare questa roba Eh però secondo me Mamma mia cosa ho fatto Ok Ho preso tutto E ho finito il bonus 7 vite 8 vite 9 vite Ci sei? Sì Però oltre al bonus Ma tu perché sei così forte? La prima di più scarsa Crash Me lo spieghi? Eh Mi hai viciato? No dimmelo Perché la mia Perché la mia Perché la senti ormai Maestro Siccome io sono sempre stato bravo a sto gioco Uh Ma quando cazzo me ne hai mai fregato a me Ci mettevo tre anni a sparare il livello qua Andiamo ragazzi Questo livello mi piace È più tranquillo Sì vabbè guarda qua Guarda guarda Ma c'è lo spara piselli qua Non credo c'è lo spara piselli Ma non c'è che poi dove lo dai? Ok me lo sono chiamato Qua ci sono i laser E mo? Il cristallo preso Sono invisibile ah no? Sì se lo so Minchia meno male Il cristallo preso E mo come le facciamo scoppiare? È anche la gelma Capito? Sì aspetta che devo superare le casse di nitro verdi Basta che salto no? Sì 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 Ci devo provare Non è stato con la scivolata No! No! Per avere fretta porca puttana Sono un pezzo di merda solo Allora con il litro Ah ah È praticamente È cosa che fai Quando si fermano un po' Perché fai salto con la scivolata Senti Fatto già Ok Vai È presa anche io la gemma Finish Ragazzi Questo livello Io che lei L'abbiamo fatto al 100% Perfetto Vamos così Ora Tocca al boss Crunch Vediamo Crunch C'è una sensazione di Non volerlo fare Vediamo Crunch cosa ci ha Ci ha lasciato Quest'oggi Sono veramente curioso Guarda guarda Il ragazzo arancione Piace volare È l'ora di guadagnarti le mostrine Sei entrato eh Sì anch'io Vediamo cosa bisogna fare Io spero che almeno Questo sia più semplice Degli altri Madonna Tutti difficili sono i boss Oddio Nooo Devo sparare Eh come si fa Si spara con la X Con la X Devo scansare ste cose Però anche sparandolo Non toglie mai Guarda Ma le toglie proprio Ma lo so Io sto sparando Ma non gliene toglierci Quando diventa invisibile Lo fa Prende danno Ah ok Io vabbè Io lo sto sparando sempre Ah è difficilissimo Ma come si fa Sto cosa Ma poi tipo Aspetta che devo Togli Devo fare una No Hai visto dopo Che ti lancio Tutte quelle palline Che ti punto Quell'altra cosa Con la mano E diventa stelettico Basta che ci giri sempre intorno Vai su e giù E vedi che non ti colpisce Ho faccio così Continuamente io Io sono diventato Metà vita Però c'ho 13% di vita Cioè non posso Recuperare la vita In qualche modo Eh quello è brutto No No Questo è difficile Ma no Ma no Mi faccio sempre così Ma come fai a scansare Da capo io Io ho trovato Io ho trovato Metto l'aspirapolvere Poi ma Poi ma l'aspirapolvere Quest'acqua Fa dare fastidio Ma ma la fine Ma la fine è facile Perché fa sempre la stessa Nooo Mi ha tolto tutta la vita Devo ricominciare da capo Non ci posso credere Non ci posso credere Alla fine Alla fine Alla fine fa sempre la stessa mossa Fa sempre la pallina Fa sempre la pallina E tu È difficile che ti colpisce Va bene Mi fa tempo che aspetto la mia ragazza Che lo finisce Ci vediamo al prossimo episodio Per iniziare L'ultima Isola Ciao a tutti da Tiger